Difendere la propria proprietà, la propria casa, i propri beni è un diritto fondamentale che non può essere in nessun modo messo in discussione. Troppi casi recenti, soprattutto nel mio territorio vicentino, sono stati nel verso di condannare ingiustamente le vittime dei furti, le vittime degli aggressioni invece che gli autori degli stessi atti criminali e per questo ho chiesto al governo di intervenire per sancire in modo definitivo gli ambiti e i diritti della legittima difesa e restringere invece quelli del reato di eccesso di legittima difesa che comporta la condanna delle vittime e comporta delle ingiustizie che per noi sono diventate assolutamente intollerabili.